Si è rotto per causa di forza maggiore, spero che abbiate avuto pazienza nell'aspettarmi. Allora, uno dei problemi principali nella pronuncia in inglese sono le vocali, perché ci sono molti più suoni vocalici in inglese che in italiano, e il rapporto è 12 in inglese e 7 in italiano. Dopodiché se li sbagliamo a pronunciare, tutto sommato la gente ci capisce, il problema è quando andiamo a capire loro. Allora, prendiamo il suono E, quindi, cioè, avete presente quando in italiano diciamo un sit-in di protesta? In realtà un inglese ti direbbe sit-in, sit. Quindi questo E è molto più simile a una E chiusa, è molto breve, della I italiana, con la I italiana proprio poco in comune. Quindi set come setoso, beg e non i big, beg come begonia, lev come levante. Immaginatevi di dire I live with levante, però poi se volete lasciare qualcosa al vostro amico Livio, I live it with livio. Vedete la differenza fra lev e leave? Di solito in Italia si pronuncia uguale. Per finire pensiamo ai kit di salvataggio. Hai preso il kit? Beh, sarebbe kit, tipo... Che te frega? Tu hai preso il kit? E che te frega? Grazie.